Iniziamo con una piccola introduzione nel ribedire alcune linee importanti che sono quelle della linea guida di come eseguire il test, perché a volte ho sentito delle situazioni che non sono proprio quelle delle linee guida e come la Sewwell Bank ha diramato proprio le regole per eseguire il test, che sono importanti. Le regole sono semplici, ma per esempio ricordatevi di tenere l'S Drive a distanza di filo dal vostro computer. Non mettete nessun tipo di metallo, telefonini e poi attenzione a non essere sotto il neon, come facciamo spesso, facciamo vedere dal video che spiega come fare il test. Altra cosa è di togliere tutti i metalli, quindi anelli, orecchini, collane, dalle persone che esegue il test. Questo è fondamentale. Un altro aspetto importante è pulire il pozzetto di S Drive prima e dopo l'utilizzo e aver fatto il test. Quello che io sempre consiglio è quello di utilizzare queste salviette. Sono le picche, sono molto semplici, oppure inumidire appena uno straccetto, un tovagliolino con appena appena di acqua ossigenata, ma veramente appena appena inumidito e poi pulire il pozzetto. Quindi pulizia prima e dopo, distanza di filo, togliere tutti i metalli, è fondamentale per eseguire un test fatto a regola d'arte. L'altra cosa importante che voglio condividere con voi prima di presentarvi la serata con il corso di Marcus è questo. Perdonatemi, condividi. Ecco qua. Questo è lo schermo del software, come sapete, di S Drive. Non so se tutti lo avete fatto o ve l'hanno fatto fare, chi vi ha installato l'S Drive, ma ci tengo in modo particolare a dirvi. Andate su manutenzione, magari prendetevi questo appunto. Su manutenzione, vedete qua in fondo c'è backup automatico. Se volete essere certi di non perdere i vostri dati, cioè tutti i test che voi fate, se volete essere certi di non perdere i dati, dovete creare la destinazione, l'archivio di dove andranno salvati i test. Quindi dovete selezionare la destinazione, cercare, andare su desktop, creare nuova cartella. Vedete qui c'è archivio S Drive, quindi non c'è bisogno di crearla. Poi andate su archivio S Drive, poi andate su archivio S Drive, una volta che avete fatto questa manutenzione, creato cartella, archivio S Drive, ok, ok. E vedete qui c'è proprio, avete qui la cartella dove salvarlo, dove avete salvato. Vedete nuova cartella, archivio S Drive, ok. Ok, fleggate questo quadratino. Quando chiudete il software, tutti i test che avete fatto andranno salvati su quella cartella. E quindi non perdete nulla. Ricordatevi, magari ogni tanto, di salvare quella cartella in una USB, in modo da, se succede qualsiasi cosa al vostro computer, non perdete il report. Perché i report non vengono tenuti in memoria dall'azienda Server Bank. Quindi ce l'avete solo voi sul vostro computer. Un'altra cosa che magari pochi sanno, ricordate tutti i dati dei vostri pazienti rimangono dentro al software. Viene spedito solo un codice, con la data di nascita e un codice, le iniziali del nome e cognome del cliente paziente, ma non vengono inviati i dati, insomma, dei vostri clienti pazienti. Quindi tutto rimane sul vostro computer. E questo penso che sia importante. Quindi è una cosa anche da dire. Non è che vengono mandati fuori dei dati. Assolutamente non vengono mandati fuori i dati. Altra cosa da fare è che quando S-Drive vi chiede di fare un aggiornamento, appena lanciate il software, rispondete sempre di sì. In due minuti l'aggiornamento. Su manutenzione, per vedere se state utilizzando il programma più aggiornato, basta cliccare su ricerca un aggiornamento in internet e lui vi risponde. Stai già utilizzando la versione più recente. Ricordate che questo è molto importante. Poi alcuni mi hanno chiesto, mi puoi dire come faccio a controllare il mio stock? Andate su Ordine. Controllo lo stock, lo fai in automatico. Potete anche ricliccare Controlla il tuo stock. Poi se non lo vedete andate in fondo e vi dà tutti i test che avete. dei relativi report che avete acquistato. Questo è fondamentale proprio per utilizzare al meglio e sapere insomma a che punto siete. Detto questo, poi se ci saranno domande alla fine, magari chi vuole rimanere, farmi delle domande tecniche dopo il corso di Marcus, benvenuto. non vogliamo naturalmente togliere il tempo alla formazione e le cose importanti che ci derà Marcus. Quindi benvenuto Marcus, welcome. Benvenuto. Benvenuto a tutti. Siamo veramente tanti. Questo test ci sta dando delle soddisfazioni cliniche straordinarie. Come avete letto ultimamente anche da questa testimonianza di questa bambina, Selene, che ha avuto insomma, è stata quasi miracolata dai consigli e da quello che poi è scaturito dai consigli che S-Drive gli dava. Naturalmente il dottor Bartolo Mellegrini, poi quello che è intervenuto nel supporto. E devo dire che i genitori di Selene sono straordinari perché non hanno creduto alla sentenza. Per voi non c'è nulla da fare, mi dispiace. Andate in pace. Gli hanno detto così. E quindi penso che quello che stiamo a di là S-Drive, non S-Drive, però penso che queste notizie ci riempiano un cuore di gioia. Insomma, se possiamo anche aiutare solo una persona e migliorarla così tanto, se qualcuno di voi ha visto i video. Io l'ho vista dall'inizio, quando tutto è nato da una trasmissione che ho avuto l'onore di fare su Telecolor, dove parlavo del test S-Drive. Questo papà ha ascoltato la trasmissione, mi ha chiamato e voleva fare questo test per il suo bambino, per la sua bambina. E allora lui era a Bustarsizio, lì vicino visita anche il dottor Allegrini, l'ho mandato a rese e da lì è nato tutto. Perché già visto questa, no, Deborah, questa interferenza da campi elettromagnetici, questa bambina, era venuto fuori un report veramente di un'elettrosensibilità, quando diciamo, no, dei danni da campi elettromagnetici. E poi tutto il resto, il protocollo che gli ha fatto il dottor Allegrini, poi loro naturalmente hanno aggiunto altre terapie, altre naturalmente pratiche, a cui anche la riabilitazione. Però quello che stiamo vedendo è straordinario. Detto questo, Marcus, welcome. Welcome to all of you. Deborah, thank you so much for translating this. This is a great help, especially for me, but of course for all of us. È un grande aiuto per me, ma sicuramente per tutti noi, quindi mi ringrazia. Grazie a te. Sì, aggiungo che avere una dottoressa che si occupa di epigenetica di S-Drive, insomma, e dentro a questo mondo, naturalmente la traduzione viene fatta come si deve. Grazie a tutti. Allora, benvenuti a tutti, Giorgio, mi ha chiesto di accompagnarvi in una passeggiata, in questo report che lui mi ha inviato, quindi adesso ci farà vedere questo report. Quindi adesso ci apre il report. Io non so assolutamente nulla di questa persona. Se può essere utile, c'è Angela Barreca che ti può illustrare questo caso. If it is useful, Angela Barreca, I think, is the doctor who sent this clinic case. So if you need some information, we can ask her. Ok, so I would suggest that I just go blindfolded and then we can compare with her experience. Great, ok, facciamo così. Adesso io vado proprio alla cieca senza sapere nulla e poi possiamo compararlo con la sua esperienza. E poi lo compariamo con quelle che sono le evidenze cliniche. Allora, guardando il report, ovviamente questa pagina risuntiva mi dà un'ottima visione. Vedo i sistemi più importanti che sono segnalati e quelle che sono le evidenze più importanti che sono state rilevate. E nella colonna di mezzo sono listate, sono elencate quelle che sono le cose principali di questa persona. So just one question, is it a male or a female? Chiedo soltanto se un maschio è una femmina, it's a male. Riccardo, it is written on the top. Sì, è un uomo. Ok, it's a male. Grazie. So first of all, what imposes is if you look at the category summaries, there are five different fields highlighted. Ci sono cinque campi segnalati, diverse, se guardiamo alle categorie. Ok, se c'è questo tipo di distribuzione così messa in questa disposizione, possiamo già ipotizzare che c'è un blocco generale al metabolismo. Quindi la domanda è da dove deriva questo blocco? Chi sta in cima alla lista delle priorità sono gli amminoacidi e gli antiossidanti. subito seguiti dagli alimenti, subito seguiti dagli alimenti, e poi minerali e parassiti. Quindi la domanda è perché ci dovrebbe essere questa mancanza o problema con gli amminoacidi. La causa più verosimile è che ci sia una sindrome da leaky gut syndrome, quindi da intestino sgocciolante. Dove non c'è un corretto riassorbimento degli amminoacidi, non è ottimale. One thing that strikes very directly is a finding through three different categories. Ci sono, go on so I can complete the sentence. It is taurine, it is selenium, and it is manganese. Ok, taurina, selenio, and manganese sono le cose che ci interessano di più per queste problematiche in questi sistemi che abbiamo visto. Which is marked in first, second, and fourth line. Che è marcato nella linea, nella quarta linea, sì, minerali. Quindi c'è un problema che sta sia nel sistema del glutathione che nel sistema della produzione di energia. Allora, sicuramente c'è uno stesso ossidativo perché se il selenio è marcato che serve alla glutathione perossidasi, e, and what else, sorry, I missed. So selenium shows that there is an, and also because the antioxidant category shows up. Ah, ok, ok, ok. Siccome è marcata anche la categoria degli antiossidanti, sicuramente c'è una condizione di stress ossidativo visto che ci manca il selenio che serve per la glutathione perossidasi. Which is different to a nitrosative stress, which would show with B12 and arginine and other factors. At the same time, there is a double reflection of a virus issue. C'è anche una problematica che riguarda i virus e un riflesso della problematica che riguarda i virus. In the first category is lusine, and in the last category is post-virus situation. Nella prima riga abbiamo la lusine, e nell'ultima riga abbiamo i post-virus, che sono questi doppi riflessi della problematica post-virale. Now, one of the questions that pop up immediately is, why would there be a need for iodine? What do you need? Why is there a need for iodine? Ok, perché c'è, perché c'è, ci dobbiamo chiedere come mai c'è una, la necessità di, how do you spell iodine? Ah, iodio. Oh, sorry. Per quale motivo c'è una carenza di iodio? Questa è la prima cosa che noi ci dovremmo chiedere. Now, is this person living recessed in the mountains where there's very little iodine? But actually, living in Italy, eating fish every once in a while, that's probably not so likely. Dovremmo chiederci, questo è uno che vive in montagna dove c'è pochissimo iodio, però in Italia è difficile perché comunque c'è il mare, c'è il pesce, quindi questa è una cosa che dobbiamo scartare, un ipotesi che dobbiamo scartare. Quindi la cosa più verosimile è che dobbiamo pensare è che lo iodio sia richiesto per potenziare l'attività tiroidea. Di nuovo ci riporta alla problematica dell'intestino permeabile, perché spesso questa condizione dell'intestino permeabile si associa alla produzione di anticorpi aberranti, quindi anomali. che infortunatamente hanno questa tendenza a essere molto agganciabili e che si agganciano facilmente al recettore del TSH, affini al recettore del TSH. E la carenza di litio associata a un'attività tiroidea non propria e inappropriata porta anche a disturbi dell'umore, quindi problemi emozionali nella persona. Quindi guardiamo un attimo le diverse categorie. Questa è la visione generale dei sistemi. Prima ci troviamo il sistema ormonale, che è la fetta più grossa. Sistema cardiovascolare il secondo. Produzione di energia terzo. E interessante che viene segnalato anche l'idratazione cellulare. Quindi adesso la domanda è, questa è una persona che beve poco, oppure l'idratazione non raggiunge le cellule, quindi beve ma non arriva le cellule all'acqua? Il problema è che quando c'è un'alterazione del potenziale di membrana, ci può essere proprio un'alterazione del traffico ionico o transmembrana. E quindi mettendo insieme questi puntini, che cosa vuol dire in questo contesto il sistema ormonale? Spesso noi pensiamo, va bene, solo le gonadi che non rilasciano abbastanza ormoni sessuali o roba del genere. La questione non riguarda semplicemente il rilascio degli ormoni da parte delle ghiandole, ma è molto più ampia. C'è anche una questione che riguarda l'up-regolazione e down-regolazione dei recettori che, a livello della membrana cellulare, o comunque delle cellule, che fanno sì che gli ormoni possano soltanto parzialmente compiere il loro lavoro. Però dobbiamo anche considerare che la secrezione ormonale è altrettanto importante della decomposizione ormonale, quindi della degradazione dell'ormone. E la degradazione ormonale prende a luogo quasi completamente all'interno del fegato. E se c'è una problematica epatica, non c'è soltanto una problematica che riguarda la degradazione ormonale. Però quello, per esempio, è anche il posto dove, è sempre il fegato, dove vengono attivati gli ormoni tiroidei. Qui ecco che vediamo per quale altro possibile motivo viene segnalato lo iodio. Given this, and presuming a leaky gut syndrome, obviously, the down-regolation of mitochondrial energy production is in the line of effects. Quindi, la riduzione dell'attività mitochondriale è un effetto che abbiamo di seguito. Detto questo, è considerando la questione, quindi considerando la questione del iodio, considerando la leaky gut syndrome, considerando questa questione ormonale, ci possiamo aspettare una ridotta attività mitochondriale. E se ci viene mostrato che manca il manganese, sicuramente già vediamo che i mitocondrii non funzionano come dovrebbero. The one interesting factor, very individually, obviously, is showing here the cardiovascular system as a big issue. Okay, una cosa particolare adesso qui che ci viene segnalato che il sistema cardiovascolare è un problema importante. The one thing is that with an ongoing leaky gut at some point, you also get in the same pathomechanism, sort of a leaky vessel syndrome also. Okay, quando c'è una condizione di leaky gut syndrome, noi possiamo ritrovarci anche una condizione in cui, quindi di intestino iperpermeabile e gocciolante, anche i vasi che sono iperpermeabili. Questo vuol dire che tutte le condizioni infiammatorie che stanno danneggiando l'intestino vanno anche a danneggiare l'endotelio. Quindi stiamo parlando come processo principale qui dell'infiammazione. Non è una questione dei grassi nel sangue, ma dell'infiammazione. E l'attivazione delle piastrine nei confronti delle tossine che passano il muro intestinale. Which are triggered, the thrombocytes are triggered, the platelets are triggered through the toll-like number 4 receptor. Perché vengono attivate attraverso il toll-like receptor 4. E si trasformano nella loro forma attivata che è quella che ha le digitazioni. E questo le rende molto suscettibili all'aggregazione in tutti i luoghi dove il flusso non è lineare, ma turbolento. Like the coronary arteries, like the aorta, or for example the carotis bifurcation. So, just from these few results we can draw a part of the picture here. E adesso guardiamo i fattori che bilanciano e regolano il sistema immunitario. So, don't understand this page as an immune booster. It's about bringing the immune regulation back to its middle, where it should be. So, obviously the super-oxididismotase needs some support. Which means that would be a sensible place where chaga mushroom, for example, can be given because that naturally contains super-oxididismotase for oral supplementation. Questa è un'ottima situazione in cui dare lo shaga al fungo perché è un'ottima supplementazione orale di super-oxididismotase perché ne è ricco naturalmente. In the matter of an explicit oxidative stress, vitamin E obviously makes a lot, makes a, is very sensible to use. Quando c'è uno stress oxidative evidente, la vitamina E è molto necessaria da utilizzare. And, of course, selenium for the glutathione peroxidase. E ovviamente il selenium per la glutathione peroxidase. Perché il glutathione è il grande spazzino dei radicali liberi per le cellule. If we read the chart on an elevated level, first of all, we look at the value, the overall value of importance. Allora, come prima cosa noi dobbiamo guardare quali sono la scala in termini di priorità delle varie fette. Quindi, come prima occhiata dobbiamo guardare questo, quindi le fette che hanno più peso. E diciamo che, come importanza, quando andiamo oltre i 35, siamo un'importanza significativa, in questo caso, in questa carta. Questa persona ha 76, quindi molto oltre quello che viene ritenuto un valore elevato. E noi possiamo anche vedere quale punteggio viene segnalato per ogni categoria che viene menzionata, evidenziata. E quello che incide maggiormente sul sistema immunitario è il sistema di supporto che, vedete, ha il valore 21, quindi quella colonna di destra. Quindi questa è l'influenza più forte. E subito seguito dalla carenza di antiossidanti. E poi dalla carenza di vitamine. E questo è interessante perché se guardate l'influenza dei parassiti diretta sul sistema immunitario è praticamente zero. E questo ci aiuta a capire per il nostro corpo che cos'è che è più importante da prendere per primo, quindi a che cosa serve a questo corpo e come priorità da prendere. Adesso guardiamo l'influenza sull'intestino. Non si confuso. Se ho la presumzione di che c'è una leaky gut syndrome, non significa che questa categoria deve essere molto alta. Il fatto che io abbia detto che, presumibilmente, c'è una leaky gut syndrome non vuol dire che questo deve essere una categoria che ha un punteggio tanto elevato. Perché una leaky gut syndrome, che è abbastanza comune nelle persone, può essere causata da tanti fattori diversi. Può essere influenzata da tossine e conservanti. Proprio come per le citochine. E quindi vedete che andare a supportare l'intestino in questo momento non è importante come andare a supportare il sistema immunitario. Cioè il sistema di supporto per l'intestino non è così importante come quello per i sistemi immunitario. E se noi vogliamo prendere qual è la cosa proprio più importante per aiutare questo sistema, vedete che quello che porta come numero 7 sono i marcatori nutrizionali. Quindi quello è il punto da cui iniziare. Poi abbiamo la parte cardiovascolare che è importante. Abbiamo il selenio e il superossido di smutasi di cui abbiamo già parlato. Però se dobbiamo lavorare specificamente per questa cosa, C'è una carenza di energia, c'è un misto tra una carenza di energia, con una carenza di aminoacidi di riparazione. E l'isina, l'isina viene marcata. L'isina non serve soltanto una difesa contro i virus. Perché l'isina rientra anche nella produzione delle fibre elastiche di collagene. Perché soltanto in presenza di lisina può essere separata e ristrutturata la fibra collagene. Quindi se la situazione viene gestita correttamente e il sistema immunitario riesce a fare un passo indietro rispetto a questo stato infiammatorio in cui si trova, Noi sicuramente avremo un'influenza generale su tutti gli altri processi infiammatori nel corpo. Quindi, se le mitocondrii non funzionano così bene, questa categoria è segnalata. È mostrata in qualche modo, però non è sicuramente una capolista. Diciamo che il corpo ci dice, ok, mi servono urgentemente di più altre cose in questo momento per sentirmi meglio. Ad ogni modo, voi potete sempre utilizzare la smart card per alleviare questa sensibilità ai campi elettromagnetici. Now, in the vitamin category, some are shown, but for specific functions, especially for the immune system. Alcune vitamine sono state segnalate in modo specifico per il sistema immunitario. L'acido pantotenico, vitamina B5, è segnalata come carenza. Quindi, probabilmente c'è anche uno squilibrio nell'asse dello stress. che va dalla ghiandola pituitaria, ipofisi, down to the suprarenal glands, to the adrenal glands. E5 is the one vitamin together with tyrosine that helps to unlock a blocked situation in the pituitary gland. Perché tirosina e vitamina B5 sono quelle che aiutano a sbloccare i blocchi nella ghiandola pituitaria, ipofisi. So, back to one of the main findings that, obviously, selenio is needed. Ovviamente, torniamo a quelle cose che erano state segnalate come priorità, il selenio viene segnalato come carenza. Now, given the situation in the cardiovascular system, obviously, selenio is also needed to reinstate the situation in the tissues. Ok, allora, visto che c'era stato segnalato la problematica cardiovascolare, il selenio è quello che serve per ristabilire la salute tessutale, anche. Selenium has a strong influence on the building of tissue. Perché il selenio serve a una grande influenza proprio per la costruzione dei tessuti. Il manganese ovviamente qui è segnalato perché serve per potenziare la produzione di ATP all'interno del mitocondrio. Se tu guardate l'attività media mitocondriale nella popolazione, se 100 è il massimo, l'optimum, tantissime persone si aggirano intorno al 70-80% della produzione di ATP. E questo è allarmante perché vuol dire che tantissime persone non sono nel loro optimum di produzione energetica. E questo è un problema anche perché se la produzione di ATP scende sotto al 40%, la cellula va verso l'apoptosi e quindi l'autodistruzione. Lo iodio già ne abbiamo parlato. Poi c'è una cosa abbastanza rara. Noi consumiamo molto più sodio di quello che sarebbe buono per noi. Perché sta dentro tantissimi cibi e ce lo mangiamo. Però a volte la necessità, la mancanza di sodio mostra qualcos'altro. proprio come la mancanza della necessità di potassio potrebbe essere. E quindi la mia idea di uno sbilanciamento del potenziale di membrana potrebbe essere confermato da questa carenza dello iodio. C'è il suggerimento per l'omega 6, l'acido di grassi omega 6. Ma diciamo che non lo mettiamo sicuramente in priorità nella terapia. E queste adesso sono le cose più importanti. Di nuovo il selenio segnalato come antiossidante. La superossidodismutase che viene segnalata come parte proprio del sistema di difesa dell'organismo. La vitamina E come riduttore generale dello stress ossidativo. E poi sono mostrati anche i fitoestrogeni. Quindi questo potrebbe mostrarci anche che c'è un cambiamento proprio nel sistema ormonale, la carenza di fitoestrogeni. Magari si trova in una crisi di mezza età. E quindi anche questo ci potrebbe spiegare come mai ha questo sbilanciamento nel sistema ormonale. Che era segnalato sopra se vi ricordate. Adesso ti ritorniamo agli amminoacidi. Ci sono quattro amminoacidi che vengono segnalati come necessità. Io ho già detto prima che la questione potrebbe essere quanti amminoacidi sono resorzati sull'intestino. Ho già detto prima che la questione potrebbe essere quanto bene gli amminoacidi vengono riassorbiti a livello della parete intestinale. E se c'è una necessità di taurina, che è molto più importante e necessaria per gatti e cani rispetto a noi, è un altro segno che abbiamo una grossa carenza nella produzione di energia. L'influenza ambientale non è così significativa qui, quindi andiamo alla resistenza. All'interno della categoria dei parassiti c'è la categoria chiamata post-virus. Vorrei spiegarvi che cosa vuol dire proprio questa terminologia. Dopo un'infezione virale potrebbe esserci quella che viene chiamata una cicatrice immunologica. E questo vuol dire che la condizione immunitaria non ritorna nel suo stato originario. E spesso se c'è questa situazione post-virus segnalata, Ci potrebbe essere una problematica infettiva perché il sistema immunitario si sta ancora sbrogliando quella precedente, quindi è ancora impelagato nella questione virale precedente. Quindi è più scettibile. Of course you can think and search, ok, you know, where can I eat now, how can I eat now. But the point is, it's important to keep these factors in mind. Quindi adesso noi possiamo andare a vedere, ok, quello che devo mangiare e cosa che non devo mangiare, però la cosa importante è tenere a mente tutte queste cose che abbiamo detto. Tutti questi fattori che abbiamo detto. E ovviamente anche osservare le restrizioni per quanto riguarda l'alimentazione. Queste non sono allergie, questi sono cibi che riducono l'energia del vostro corpo. E per esempio c'è il caffè che questa può essere una cosa che lui ha nella sua tabella di marcia giornaliera. Ah, c'è anche il riso qui, sono sorpreso che c'è il riso. Perché il riso generalmente è molto ben tollerato. Però potrebbe essere dovuto al fatto che quel riso che viene utilizzato di solito da questa persona è esposto a molti pesticidi. Quindi magari basta semplicemente cambiare la sorgente, la fonte. Sto solo guardando un attimo gli additivi. Se guardate al portasso propionato, quindi A283. Those are factors, the propionic acid is, for example, another factor why there's an influence and blockage over the metabolism. Potrebbe essere un'altra delle motivazioni per le quali c'è un'influenza che blocca, quindi un'altra influenza di blocco sul metabolismo, l'acido propionico. Quindi, com'è che mettiamo insieme tutta questa roba? Questa persona sicuramente ha bisogno di risistemare la parete intestinale. Quindi gli serve sicuramente di integrare amminoacidi e antiossidanti per potersi spostare da questa situazione in cui si trova. E sarebbe molto utile in questo caso un'integrazione in multiminerali. Che potrebbe anche non contenere tutto quanto insieme, tutto quello che gli serve, però comunque è un buon aiuto per il corpo. Per influenzare il potenziale della membrana cellulare, la famiglia Aslan, in Ungheria, pardon, potrei ripetere? La famiglia Aslan, il nome è Aslan, in Ungheria. In Ungheria c'è questa famiglia che si chiama Aslan. Sono entrambi i medici. Hanno creato un sistema proprio per ristabilire il potenziale di membrana con l'ingestione orale di procaina. Comunque se i mitocondrii ritornano a lavorare bene, si risistema comunque. Questo è un'intervista generale di non sapere una sola cosa su questa persona, ma che sia un male. Quindi potremmo mettete te stesso in e magari mi dite qualche informazione di background. information now. Ok, quindi questo è quello che io vi ho potuto dire, non sapendo assolutamente nulla di questa persona, eccetto il fatto che è un maschio. Quindi adesso mi potete dare magari qualche informazione del retroscena. Eccola, Angela. Eccomi, eccomi. Scusate, non metto la telecamera. Hi, Angela. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ok, potresti aggiungerci qualche informazione clinica visto che io ho fatto una lettura alla ceca? Eh, mica tanto alla ceca, sei stato bravissimo. Ah, you did very well. You did great. Thank you. Thank you. The German saying to that is sometimes a blind chicken also finds a grain. Ah, il detto tedesco per questa cosa è che a volte anche un pollo cieco trova il chicco di grano. Just kidding. La descrizione è perfetta. La descrizione è perfetta. L'unica cosa è che il ragazzo, e quindi forse giustifica un po' tutto, è diabetico, insuline dipendente. The only thing is that this guy is affected by diabetes and takes insulin. Insulin-dependent diabetes has that and maybe it justifies the picture you have read. Well, yes, Angela, remember that type 2 diabetes is actually an immunological disease. Type 2 or type 1, you mean? Type 2. Type 2. Or is he type 1? Type 1, should be type 1. Insulin-dependent should be type 1. No, 2 also can have insulin-dependent if it's advanced. Yeah, but it's secondary-dependent. Okay. So it's type 1. Yes, Angela? Yes, type 1. Diabete di tipo 1, Angela. Di tipo 2. Lui è di tipo 2. Okay. L'audo tre anni fa. Lui c'ha trent'anni. Okay, so type 1 is an autoimmune disease and type 2 is an immunological disease. Allora, diabete di tipo 1 è autoimmune, diabete di tipo 2 è invece un problema immunologico. Esatto. Which has to do with a downregulation of insulin receptors. Che ha a che fare con la downregolazione dei recettori per l'insulina. Certain forms of inflammation as well. E una certa forma di infiammazione anche. And then sort of a tilt of the metabolic situation. E delle problematiche riguardo il metabolismo. I am convinced that if the other regulatory parts are put back in order, then that person actually might lose its diabetes. Io credo che se gli viene risistemato tutta la parte regolatoria, tutto il resto della parte regolatoria, lui potrebbe anche uscire dalla problematica del diabete. Non c'è garanzia ovviamente, però può succedere che ovviamente quando si risistema le cose, le cose vanno sempre più sistemandosi e stabilizzandosi. Il problema di questo ragazzo è che è in sottopeso. Il problema di questo ragazzo è che è underweight. Underweight. Lui è un metro e ottantadue e pesa 63 kg. Quanti kg, scusami? 63 kg. Qualche kg posso darglielo io. Ci sono molti che vorrebbero. Molti candidati. Assolutamente. Allora a questo punto è importante rifare una supplementazione dei corretti nutrienti per consentigli di riprendere peso. Perché il riassorbimento proprio dei nutrienti a livello del piccolo intestino è veramente carente. In fact, in a very prolonged matter, if someone has a leaky gut syndrome, at a certain point they will go down to about 10% of resorption capacity as of normal. Quindi quando c'è una leaky gut syndrome che va avanti di lunga data, si arriva fino a 10% della capacità di riassorbimento intestinale rispetto a quella che è normalmente. E quindi puoi utilizzare una diversa forma di riassorbimento. Quindi, per esempio, quella sublinguale degli spray che è a Giorgio. Puoi anche fare una supplementazione specifica di aminoacidi, di singoli aminoacidi che hanno effetto anabolico. Luca Moretti, il MAP, che è una formula di Luca Moretti, aiuta a rimpolpargli le sue riserve di forza. Sì, infatti, è astenico. È ovvio perché gli manca completamente l'energia. Sì, ok, that's why the manganese, eccetera, eccetera, to boost it up. Sì, or you go forth and just infuse tazionil as a glutathione. Oppure gli fai le infusioni di glutathione di etazionil direttamente nel mio bene. E puoi anche utilizzare i cibi fermentati, che sono predigeriti, per fornire più nutrienti al sistema. Per fornire più nutrienti al sistema. Ok, so there would be some elements to just sort of boost the situation. Questi sono alcuni elementi che possono dare una potenziata a tutto il sistema. Grazie. Grazie per la chiedere. Grazie. Grazie tanto. Se posso essere utile, Angela, ti dico due cose. Dimmi. In Sudafrica ormai da tanto tempo ci hanno mandato anche degli studi interessanti e uno dei protocolli di base nel paziente con queste problematiche, il self-food e il diet switch, è stato entrato proprio in un protocollo che è menzionato in un libro per i pazienti diabetici. Sì, quindi il self-food in quei casi tu pensa che a 15 gocce tre volte al giorno ha dimezzato l'insulino dipendenza e l'associazione naturalmente di I-switch con la carnitina è un attivatore materiale importante. E siccome sono tutte e due con una biodisponibilità altissima a livello sublinguale, messi nell'acqua, i risultati sono veramente notevoli. Devi fare molto piano. Yes, and the carnitine will then also push the acetyl-CoA fatty acid burning and calories. Yeah. Okay. And same actually would be a good factor too, because same would then deliver methyl groups to boost the metabolism. It's not about burning calories, but this person needs more energy. No, I translate. I'm sorry. Okay, non è una questione di come si brucia calorie, ma di risistemare il metabolismo, il same, sicuramente gli è utile in questo caso. E poi aveva detto anche un'altra cosa prima, un attimo me la sono aperta. Carnitina. 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 Grazie, grazie mille. Grazie, Marcus. Grazie a tutti. You're welcome, absolutely, Angela. You're welcome. Wow. Grazie. Meraviglioso. La cosa che mi ha sorpreso è la descrizione di Marcus, quando lui leggeva il report, io ripetevo il viso del ragazzo, guarda, il fisico del ragazzo, me l'ha descritto in modo splendido e perfettamente. She was so surprised, because while you were speaking, she was thinking about the guy, and you described perfectly the guy of the report. So, she was really, really surprised. I'm happy. Amazed. Bravo, Marcus. I'm happy. And, um, um, obviously, um, obviously, he also lacks an appreciation for, um, fullness in life, for, for, for the richness of life. A lui manca anche la possibilità di apprezzamento per la pienezza della vita, per la ricchezza della vita anche. And he, he restricts himself, the energy and the whatever he gives to himself is limited. E tutto quello che lui si dà, l'energia che lui si dà è limitata. So, that would be a picture where you could add, um, 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 natrium muriaticum. Questo è un quadro al cui tu potresti aggiungere natrium muriaticum. In a C200? C200 CH. Um, add, uh, two globules once a week. due globuli a settimana per cambiargli un po' questa visione di sé sì, perfetto Marcus, perfetto lui infatti è diventato diabetico in seguito anche ad uno shock che ha avuto e quindi ha subito delle cose per cui non è riuscito a reagire se le prese quindi non ha una buona visione di sé, vero è la prima cosa che ho notato Diabetes showed up after a bad experience, a trauma he couldn't go through and yes, the bad vision he has about himself is the first thing that she noticed when she met him so yes, you got right ok thumbs up for you yeah, perfect eccoci allora, carissimi, avete delle domande? volete intervenire e chiedere qualcosa a Marcus? avete qualche curiosità, approfondimento in particolare? se qualcuno vuole fare qualche domanda è benvenuto sul caso oppure volete una spiegazione di qualcosa, un chiarimento, un tutto chiaro, tutto a posto, nessuno vuole intervenire? non abbiate mica paura, non interrogo non interrogo non interrogo potrei avere un chiarimento, pronto? eccolo qua potrei avere un chiarimento sul post virus che ancora non ho capito bene questo post virus che influenzae e che cosa bisogna fare in effetti se bisogna agire in qualche maniera ok, post virus è una cosa che di solito non viene descritta con questa etichetta quindi è una condizione che non viene descritta con questa etichetta, è un nome creato cerca di descrivere una condizione immunologica che si riferisce a come una ferita, una cicatrice immunologica dopo una infezione virale che può essere un brutto raffreddore ma anche un'infezione erpetica ripetuta uno stato di infezione da epstein bar latente che serpeggia ancora nelle basse vie ma ci sono anche tanti altri esempi pannello virale 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 sì ok, grazie posso intervenire? sì chi è? dottor Loconte, Rino carissimo, ciao ecco senti, io quando leggo i pannelli praticamente vedo la vitamina D3, vedo la vitamina E io in genere, tu sai bene che mi interesso di vitamina la vitamina D in genere è sempre legata alla K2 per un problema di assorbimento cioè se tu utilizzi la vitamina D senza K2 praticamente la D circola a vuoto, capito? cioè il meccanismo è questo che la D circola per la fissazione a livello dei recettori che possa essere di tipo immunitario che può essere aspetta che deve tradurre allora mi fermo ok, it says that basically vitamin D3 is always associated with a lack of vitamin D is always associated with a lack of vitamin K2 K2 yeah because the metabolism is connected as you know yes so yes, absolutely yeah sì and again then the vitamin D also has an influence on the diabetes situation in fact very much e la vitamina D infatti ha influenza sul diabete in modo significativo no, ma io parlavo di assorbimento della D con l'associazione con la K2, capito? no, he is speaking about the absorption of vitamin D in association with vitamin K2 yes qual è la domanda però esattamente la domanda è che io quando leggo praticamente che c'è una carenza di vitamina D o di una vitamina E in genere la D per essere assorbita ha bisogno della K2 mentre la vitamina E un attimo sì, un secondo che così glielo traduco he says that when I say when it's marked the lack of vitamin D he says that it's needed vitamin K2 also to let the vitamin D to be absorbed by the organism yes, correct sì, è corretto but that's an individual situation però questa è una condizione individuale proprio specifica because if for example if someone eats a lot of of coal kale and different forms of cabbage and different other forms then there is an uptake of vitamin K perché se uno per esempio mangia tanti cavoli digitali di questo tipo qui c'è un uptake di vitamina K già ottimale perché ce n'hanno tanta and a very strong producer for vitamin K are the bacteria in the gut e i batteri intestinali sono dei grandi produttori di vitamina K so if that is given then it can be possible or only necessary to to give the D3 but of course typically you would give them together for everyone quindi detto questo potrebbe essere sufficiente dare anche soltanto la vitamina D però insomma possiamo anche dire che possiamo anche darle insieme tipicamente si danno insieme ecco sì ma diciamo associando i nutrienti che presenta anche la vitamina K2 oppure a livello intestinale c'è la sintesi da un punto di vista proprio di come devo dire di quantità perché poi la vitamina D noi ci dobbiamo regolare in base al valore capisci? perché in Italia la vitamina D è mal dosata cioè io vorrei fare proprio una relazione sulla vitamina D proprio per porre le basi di assorbimento nella normalità che è 60-80 mentre in genere portano sempre i valori più bassi sì però è giusto però noi adesso dobbiamo riferire questo no vabbè questo per una precisione così non c'entra niente ho capito cioè il suo discorso è anche giusto perché lui parla anche di integrazione diciamo a livello intestinale perché alcuni batteri vanno in sintesi della K2 quindi in questo caso la vitamina D viene assorbita grazie alla presenza dei diciamo dei batteri in un intestino che più o meno deve essere obiotico non disbiotico perché se l'intestino è disbiotico capisci bene che c'è un'alterazione non voglio andare avanti a questo perché stiamo andando fuori va bene così ok bene allora marcus debora vediamo siccome abbiamo un caso interessante da far vedere e così almeno ci da un parere anche poi marcus magari in questo caso non serve la traduzione ti faccio riposare un attimo però ho inviato a marcus un test guarda giorgio l'unica cosa fammi spostare perché prendo il cavo ethernet vicino alla camera così mando via la babysitter perché aurora la sono riuscita a addormentarla prima di marcus quindi mando via babysitter sennò veramente va adesso guarda non c'è bisogno della traduzione perché solo il diglia a marcus che adesso invito Bartolomeo a presentare un caso ok e poi dopo magari non vogliamo fare diciamo più tardi delle 10 e mezzo 10 e 40 e quindi abbiamo ancora mezz'oretta 40 minuti cioè marcus non deve più parlare poi no 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 marcus dopo gli chiederò di intervenire se riusciamo a valutare un piccolo caso di un bambino che interesserebbe anche a te Deborah ok ok marcus so i says that now we can just rest for a while yes because Bartolomeo is talking about a clinic case yes a report and then Giorgio would like you to add something to this case yes so your point of view so i'll translate you later and i let the babysitter go home ok perfect first thank you so much for this already perfect job super oh you're welcome you know i love you sir it's really from my heart same here same here same here ok Bartolo Bartolo take the stage ok Bartolomeo ci sei? vai tesoro Bartolomeo ci sei? vai ora mi sentite? si ti sentiamo bene vai eccolo qua si ho finito poco fa il decimo bulbo di oggi quindi allora questo è un caso clinico che vi ho voluto portare che è fresco praticamente questa paziente è stata vista da me il 23 di novembre ha iniziato la terapia più o meno qualche giorno dopo allora questa paziente mi arriva in studio dopo che da quattro anni e mezzo non la vedevo più era stata la mia vecchia paziente giovane 44 anni all'età di 32 anni cioè 12 anni fa è stata da me scoperta una sua intolleranza al nickel una nickel sensivity tipologicamente una fosforica una signora molto vivace aperta alla cultura del naturale chiaramente quando scopre questa diagnosi lei ricorre perché era fortemente allergica cioè una grave allergia al nickel che è stata da me dopo alcuni anni che abbiamo lavorato sempre sul potenziamento del sistema immunitario nel riconoscere il nickel e quindi chiaramente quelle limitazioni alimentari a cui abbiamo ricorso nel primo periodo successivamente sono state un po' più ridotte attenuate si è fatto sempre un lavoro sulla barriera poi sull'apnei perché è diventata nel frattempo una cultrice anche di tecniche naturopatiche quindi sicura fa meditazione va dalla riflessologa quindi diciamo arriva a un certo punto che da un anno stanchezza cronica stanchezza cronica associata a dolori dolori muscolari e ha uno stato quasi depressivo è una signora molto attiva è responsabile di un'agenzia e quindi è sempre a contatto con il pubblico chiaramente dopo l'ennesimo trattamento naturopatico la naturopatica le consiglia visto che aveva conosciuto da poco vedete in ambito a pagina 3 in ambito del riepilogo viene fuori una problematica sulla barriera intestinale una alterazione del sistema muscolo scheletrico problematica di produzione di energia e una incapacità dei sistemi di detossificazione se scendi più giù giorgio allora praticamente già vedete la ricomparsa dei metalli tossici accanto a carenze mineraliche che poi le vedremo successivamente chiaramente chiaramente il ricomparire dei metalli tossici porta già alla signora a dirmi dottore ma io comunque sono stato sempre attento attenta a utilizzare i cibi con intelligenza non ho cambiato niente l'unica cosa che è cambiata è che chiaramente la signora per poter lavorare in questa agenzia pubblica si è trivaccinata ok quindi lei non è che aveva cambiato strategia alimentare non è che aveva ripreso a mangiare nickel o i cibi con nickel e stava sempre attenta comunque gravi sintomi quando è venuta da me aveva gravi sintomi allergici sulla pelle a livello intestinale molte volte diarie istaminiche aveva sensazioni anche a livello diciamo di sistemi neurovegetativi spesso sensazione di sbandamento cioè la sua allergia si esprimeva in maniera molto attiva questa volta era al contrario cioè la situazione era di uno stato anergico molto importante molto importante ora se andiamo a vedere alla pagina successiva se vai avanti Giorgio gentilmente qua ci sono una serie di indicatori però se vediamo pagina per pagina nei sistemi di supporto compare anche vedete il sistema cardiovascolare e il sistema immunitario lo disse il professor spattini a un convegno che abbiamo fatto in lunigiana che portò una casistica di quelli di coloro che erano stati fra virgolette danneggiati dal vaccino e vide che molti di loro che avevano sintomi post vaccinali avevano come gestione sistema immunitario e cardiovascolare che compariva se vai un po più il valore vedete totale della pagina del sistema immunitario 111 cioè vi parlo di una signora che ha uno stile di vita perfetto è una signora che non è sposata lei passeggia cammina respira monopoli è bellissima il clima è buonissimo anche se qualche metallo pesante ce l'abbiamo in giro purtroppo vi dico è una signora che fa meditazione volontariato è realizzata nella sua vita serena ha acquistato un suo equilibrio quindi non possiamo pensare a una disarmonia e comunque va dalla riflessologa che è bravissima è una naturopata che si è formata con risa psicosomatica è molto brava ha lavorato con me tanti anni per cui io non posso dubitare che il lavoro che fa sull'aspetto anche di tipo neurobiologico o a livello energetico non sia un lavoro efficiente come vedete qui la segnalazione il valore di 20 parassiti e virus il valore di 17 metalli tossici se vai più sopra Giorgio c'è il valore di 20 a livello dei marcatori antiossidanti e poi il valore di 14 quindi un sistema che è stato abbastanza compromesso un sistema che è stato compromesso e dove vedete anche in qualche maniera non solo la presenza di un'attivazione di tipo metallico ma anche e questa ha una connotazione molto importante due componenti a livello di reattività del sistema immunitario i virus e i parassiti allora quando voi trovate dal bulbo virus e parassiti con un valore di 20 dovete sempre cioè siamo di fronte a una gestione di regolazione globale dell'energia perché siamo di fronte a una persona profondamente astenica ed infiammata allora nell'ambito della regolazione del sistema immunitario i parassiti si confrontano col TH2 che è lo stesso sistema con cui si confronta il nickel quindi dall'altro lato c'è l'indicazione anche all'esistenza di un'attivazione virale che invece si confronta con il TH1 quindi in questo caso si verifica proprio una sorta di disarmonia fra le due bilance e questo di solito è collegato anche a una problematica di gestione di tipo neurobiologico soprattutto collegato a un asse di stress che ha fatto vedere benissimo nell'ultima lezione che abbiamo fatto alla scuola di alta formazione il dottor Sclausero l'asse intestino cervello quindi io come ho ragionato perché vedete che c'è comunque intestinale e considerate che i metalli tossici siamo di fronte la prossima lezione che vi farò a scuola sarà una lezione collegata alla dietologia applicata alle costituzioni fermati sull'intestino Giorgio scusami praticamente vedete il primo tratto cioè lei non aveva nessun disturbo intestinale a livello del test del bulbo è venuto fuori un valore di 29 con un valore di 11 fra elettrosensibilità metalli tossici parassiti e virus quindi c'era in corso un'attivazione immunoflogistica con una profonda risposta che aveva depletato le riserve energetiche di questo organismo con una serie di indicatori che voi vedete qui in questa pagina che sono indicatori che indicano soprattutto non solo l'attività epatica come lo zinco e il selenio ma dovete pensare anche a un'azione ormonale regolatoria lo zinco soprattutto a livello degli ormoni sessuali e in particolar modo del progesterone il selenio a livello dell'ormone tiroideo quindi con problematiche anche nella gestione della metilazione e anche della parte biliare della detossificazione epatica che inquadrava anche la tipologia del soggetto in esame che era una tipologia fosforica che comunque tendenzialmente usa molto la colecisti la vescica biliare per produrre energia una parte di energia molto potente nel soggetto con questa tipologia considerate che l'indicazione di betaina è molto utile anche per un problema anche di metilazione che interviene nel meccanismo di detossificazione epatica che viene ulteriormente ad essere potenziata anche dalla presenza dell'indicatore molibdeno chiaramente la indicazione del sul furafano oltre che indicare una importante sostanza protettiva cellulare indica in questo caso anche una tendenza della linea dello zolfo ad essere un pochettino usurata quindi diciamo nell'ambito delle problematiche di gestione energetica questa persona aveva non solo un quadro infiammatorio cronico ma aveva anche una sorta di deplezione cellulare con problematiche a livello di varie linee non solo la linea antiossidante ma come avete visto anche la linea mineralica e se vai avanti Giorgio poi altre connotazioni se vai più avanti al bulbo questo è il cardiocircolatorio dove comunque vedete la B9 la citrullina la betaina vi fanno pensare anche a una sofferenza dei processi di metilazione e quindi io fra le altre cose ho consigliato alla signora anche quello di andare a valutare l'omocisteina e andare a valutare anche eventualmente ora vi porterai risultati il prossimo mese il MTHFR che è un gene che predispone per l'iperomocistenemia anche i campi elettromagnetici rappresentavano un campo importante di disturbo e questo ancora di più ci faceva propendere verso una sofferenza del tessuto nervoso infatti la stanchezza della signora assomigliava proprio quasi a un quadro depressivo con una notevole sofferenza appunto e con quel fenomeno detto nebbia cerebrale che caratterizzava buona parte della giornata della signora che aveva anche sintomi che praticamente difficoltà di concentrazione turbe della memoria beh considerate una responsabile di un'agenzia commerciale dove comunque ci passano un sacco di dati insomma anche la sua giornata lavorativa non passava molto bene se vai più avanti Giorgio quindi anche questo dato è stato tenuto in considerazione per vabbè delle vitamine ne abbiamo parlato prima vai avanti vai avanti soprattutto mi interessa la pagina di minerali ancora più importante perché qua diciamo viene sottolineato un altro aspetto allora siamo di fronte a una tipologia tendenzialmente simpaticotonica allora considerate che quando voi trovate il sodio il sodio indica la carenza di sodio una difficoltà non solo diciamo a livello di produzione adrenergica e questo è sicuramente ma anche di stabilità delle membrane cellulari accanto allo zinco lo zinco come vi dicevo prima indica anche una problematica di tipo ormonale non solo capito di tipo diciamo antiossidante e chiaramente capite bene lo zinco ha diverse sedi di azione tessuto nervoso la pelle l'intestino stesso per quanto riguarda il microbiota lo zinco ha un ruolo importante quando si trova il boro chiaramente il boro ci sta indicando un'inversione dell'attività tiroidea una sorta di iperparatiroidismo compensatorio che si mette in atto facilmente nel fosforico perché il fosforico essendo un simpatico tonico quando vai in uno stato di sofferenza ipostica quando vai in uno stato di infiammazione cronica inverte facilmente la regolazione neurovegetativa andando a generare una sorta di regolazione inversa rispetto al suo potenziale e questo chiaramente condiziona una fase connettivale che si chiama fase di gelificazione che porta a un ristagno cronico di stosside ma soprattutto a un'incapacità nella risposta adattativa di una grande struttura che è presente a livello del cervello in particolar modo del mesocervello che è il sistema limbico diencefalco in particolar modo dell'ipotalamo pone difficoltà nella regolazione sistemica della risposta allo stress e quindi è come se fondamentalmente siamo di fronte a una condizione di esaurimento beh una volta si parlava di esaurimento no? mi ricordo mia madre faceva le flebo alle persone esaurite oggi non possiamo parlare più di questo però grazie a questo test noi possiamo andare a leggere profondamente una situazione di disagio cronico di una persona che vai avanti Giorgio vediamo anche le membrane cellulari perché andiamo anche sul settore degli acidi grassi successivamente nell'indicazione degli acidi grassi non c'era un granchè va bene come indicazione e quindi diciamo e infatti non veniva segnalata come indicazione prioritaria se vai avanti Giorgio vai alla successiva in ambito di indicatori di antiossidanti invece qui c'erano una serie di indicatori di cui qualcuno di questi ne abbiamo già parlati vi ho parlato prima scusate vedete anche la vitamina C i carotenoidi e quindi comunque una capacità antiossidante che veniva ad essere violata in questo soggetto con in ambito di regolazione invece successiva aminoacidica se passi alla successiva Giorgio vediamo gli aminoacidi che praticamente venivano segnalati in grassetto considerate che la prolina dovete pensare al tessuto osseo e quando c'è il boro prolina pensate che abbiamo una costituzione fosforica che c'è un'inversione anche iperparatiroidea che si sta mangiando un pochettino l'osso della citrullina è inutile che vi dico il ruolo fondamentale nella genesi del GH ma anche nella gestione dell'ossido nitrico e quindi siamo sempre in una problematica di tipo microcircolatorio anche della carnitina sappiamo un importante ruolo soprattutto nella produzione energetica cellulare anche principalmente nervosa dove svolge un ruolo importante nella beta ossidazione degli acidi grassi quindi una serie di indicatori che però trovava poi nella pagina successiva cioè praticamente nella pagina dell'ambiente del danno ambientale vedete questo tipo di supporto quindi siamo di fronte a una problematica che si inquadra in un metallismo cronico con problematiche a livello di vari sistemi qua c'è una problematica sul fegato una problematica sul circolo una problematica sul tessuto nervoso c'è chiaramente una problematica nella barriera intestinale c'è una problematica nel sistema linfatico c'è una problematica nel tessuto connettivo quindi siamo di fronte a una presa di posizione rispetto a una strategia terapeutica che io ho messo in atto chiaramente utilizzando i capi salti della nutraceutica e quindi ho usato chiaramente la pulizia intestinale bioenergen ho usato la terapia con il food col same per la metilazione però ho anche lavorato su un drenaggio omeopatizzato di diversi sistemi in particolar modo il tessuto nervoso visto che siamo di fronte ero di fronte alla costituzione fra virgolette fosforica molto cranica molto cerebrale molto nervosa il tessuto connettivo poco rappresentato anche fisicamente un soggetto magro sottile quindi un danno a livello proprio neuroectodermico perché il metallo ha una filia per il tessuto nervoso così come ha una filia per il tessuto adiposo beh per il tessuto adiposo sappiamo bene anche dalla lezione che ci ha fatto brillantemente durante la scuola il dottor Mariani come anche strategie dietetiche devono prevedere la chelazione dei metalli in questo caso è bastato andare a lavorare su questi principi che la signora ha completamente regredito la sua sintomatologia in un brevissimo periodo in un brevissimo periodo chiaramente non era la prima volta che io la curavo e diciamo che anche in questo caso il bulbo è stato importante come inquadramento perché attraverso un semplice test siamo riusciti ad aiutare un essere umano a scorgere diverse meiopragie del suo sistema e a mettere in atto un evento riparativo che è stato un evento anche che ha portato di risultati importanti in un breve periodo e con un entusiasmo notevole tanto che la signora so che ha detto le manderò una mia considerazione perché io sto cercando di sollecitare la gente che ha i risultati a rappresentare anche attraverso un messaggio una comunicazione che è comunque importante perché siamo di fronte a un modello nuovo di medicina dove chiaramente la voce del paziente la voce dell'utente è una voce fondamentale è una voce fondamentale dove praticamente anche questa pagina chiaramente come come può essere letta vedete virus post virus e parassiti in traccia in versione TH1 TH2 io ho lavorato con un vecchio rimedio omeopatico perché la signora purtroppo aveva grossi problemi ad assumere compresse e quindi è un po' un problema ho dovuto dare delle fiale per curare questo aspetto ho lavorato sulla bilancia TH1 TH2 e considerate che qua vi sta segnalando il test quello di cui abbiamo parlato all'inizio il danno da vaccino il test ci ha segnalato fondamentalmente questo ci ha segnalato che questa signora stava bene fino a quando non ha iniziato a fare le dosi vaccini al termine della terza dose qualche mese dopo ha incominciato ad avere questa sintomatologia il fatto che qua non ci sia un grassetto scusate che qua è segnato in grassetto non ci sia tutto colorato no? e beh questo vi porta anche a eventualmente procedere verso un'implementazione delle capacità positive dell'organismo per andare a abbassare il livello di reattivazione io il prossimo mese che la rivedrò perché è venuta l'altro giorno eravamo praticamente a due mesi di cura praticamente quando la rivedrò l'ho vista esattamente il martedì 31 ah no l'altro giorno ieri mattina proprio sì ieri mattina e praticamente quando la rivedrò la prossima volta gli rifarò il test eventualmente se ci sarà occasione per andare a valorizzarlo chiaramente vi porterò anche il dato comparativo che io però sto cercando di portarvi ogni volta che facciamo le lezioni a scuola anche a livello clinico e quindi vedete sono tante informazioni raccolte da un bulbo e sono importanti perché ci permettono di orientare la salute e di farla riconquistare per quanto riguarda anche persone come Vanna come questa signora che era una signora molto attenta all'alimentazione molto attenta al suo stile di vita molto attenta a quello che anche svolgeva durante le sue attività quotidiane quindi molto camminava faceva sport meditazione riflessologia tutto quello che si può fare per stare in benessere ma non è stato sufficiente attraverso il bulbo e quando si è recata da me ha detto dottore preferivo non vederla più però l'ho dovuto ricorrere di nuovo da lei nonostante io l'avessi affidato ormai alle mie operatrici del benessere perché praticamente c'era questo bisogno e penso che insomma a questo punto se c'è qualche domanda io sono a disposizione perché ho cercato di descrivere grazie Bartolo è stato veramente molto importante anche presentare questo caso perché di questi casi di riattivazioni virali dovuti a vaccini o covid ormai siamo veramente pieni e penso che S-Drive ultimamente so che insomma ci hanno interpellati anche quelli di Ipocrate no del della cure domiciliare insomma per dargli una mano e hanno incominciato a utilizzare l'S-Drive anche in questa direzione stacchiamo pure il puntino rosso chi è? con chi parlo? diciamo allora Marcus sì eccoci eccoci Marcus you have seen the 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 clinic very very interesting yes and very interesting Bartolo una cosa Marcus una domanda alcune volte dicono ho fatto un test gli ho dato una dieta però poi il secondo test di controllo c'è un peggioramento ok sometimes Deborah sometimes just just a second perché mi sei svegliata ok sometimes it happens that in a test I give them a diet and then in the second test we do we we see that the picture is worse than the previous one so worse in which respect in quale aspetto dice è peggiorato il quadro allora magari questa sera non c'è il tempo per mi hanno mandato i report primo e dopo ma non riesco a a mandarti questi e non c'è il tempo per verificare volevo solo sapere da te se avevi un'idea io la cioè non puoi intervenire solo con la dieta perché mi hanno già detto che sono interveniti con l'alimentazione orto-molecolare però secondo me manca l'integrazione manca il supporto della pulizia intestinale cioè mancano aspetta 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 Giorgio un attimo però la domanda che tu gli stavi facendo è il peggiorato perché lui ti chiede in che parte dov'è che è peggiorato il quadro vuol dire che il quadro è peggiorato I ask again your question Marcus perché c'è che 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 c'è perché c'è che c'è il rapport prima e dopo il trattamento ma l'unico trattamento che c'è questo è un'alimentazione di un'automolecular diet no integrazione no supplements no therapy per l'intestine so now is trying to find what kind of come sempre I understand I understand the point is if there is an ongoing development basically sort of you know a decline in the body situation then even just changing the diet still can basically help to improve but that doesn't necessarily mean that doesn't necessarily mean that that is turned around all the way just the steepness in decline may may be alleviated a little bit and that is why the supplements are so important and the additional factors to give even more to give the therapy more power I can give you a very short example very short example there's the tumor has within the course of one and a half years has decreased in size a little bit and the patient was asking me well you know why hasn't there more happened and I said well you've you've done a lot because after one and a half years the tumor would be would be would be totally different so obviously you had a dramatic impact on it not growing and in fact decreasing even a little bit so change is always relative great grazie si può anche pensare che spesso si ha anche una una sindrome di crisi di guarigione per la legge di Hering è possibile questo cambiamento nei valori del fegato richiede almeno sei settimane per essere evidenziato se lavorate sulla parete intestinale ci vogliono 3-4-5 mesi per acquietare le acque ma la parte interessante dell'es-drive è che voi potete vedere qual è la foto delle necessità di quel momento e poi adattarla alla situazione grazie ti chiedo questo perché è la prima volta che lo facciamo in maniera molto veloce che poi insomma 10 e mezzo 10 e 35 andiamo a dormire se ci puoi dare il tuo parere su questo test per è un test di un bambino I also want your opinion about this test because the first time we do this and then we go to sleep in 10 minutes more or less yeah okay I can it's a baby yeah no let me it's a child yeah would you give me control I've already opened the thing of course yeah grazie perfect here we go okay so obviously many many of you have not seen the baby and child report yet in its format this is very very nice because it addresses the actual needs of the children which which is different to an adult so Giorgio if I may just very shortly describe the medical background yes this child has 10 has a acute leukemia linfoblastica diagnosed five years ago three cycles of chemo so sorry no that's fine so you don't know translation again in italian that's fine yes okay fine so the issue is here we can we can basically think about which factors have led to the situation originally okay the question is this we have to think about what are the factors that have brought to this situation what I mean lymphatic cancer whether it's AML whether it's CLL whether it's different forms as the lymphomas Hodgkin non-Hodgkin and others very often and in fact almost always are associated either with cytomegalivirus or with Epstein-Barr I'm not saying this is the sole factor but it's a co-factor in its development this doesn't show here why well the point is this girl has suffered through three cycles of chemotherapy now her 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 problems have increased dramatically due to the complete eradication of the immune capacity so before the stem cell or the bone marrow transplantation obviously the immune system was completely eradicated so she is highly susceptible to all forms of infection and also due to the chemotherapy treatment any fast replicating cell is obviously affected which is not only true for a tumor cell but also for the enterocytes in the intestinal wall which have a turnaround of three days so therefore the resorption capacity is massively impaired so the reabsorption have I heard the resorption and the resorption in the through the intestinal at at the same time cancer cancer cells also consume enormous amount of sugar where a lot of high value proteins are taken out of the muscle tissue burned after doing gluconeogenesis so this girl is facing the situation of having almost no defense with a lot of infections therefore and a starvation at the same time quindi questa bimba si ritrova con una condizione di corpo affamato con tante infezioni in circolo e sistema immunitario nullo quindi avete tantissime diverse infezioni con diversi parassiti segnalati qui the amount of antioxidants needed are there to halfway dampen this aggressive treatment e come vedete qui gli antiossidanti che sono segnalati servono per cercare di tamponare il danno dei trattamenti aggressivi che ha subito which would not make any sense during the treatment because there an aggressiveness is wanted non avrebbe senso ovviamente fare il durante l'achemio perché l'aggressività dell'achemio è richiesta e necessaria but now in between the cycles obviously there has to be support ma adesso invece in mezzo ai cicli questo è necessario perché c'è bisogno di dare support basic elements like the amino acids are sparse in metabolism ci sono c'è la necessità di questi aminoacidi di base per il metabolismo additional factors for the metabolism like b3 are needed e anche altri fattori addizionali necessari per il metabolismo come la vitabina b3 segnalata elements for the mitochondrial energy production like manganese here are needed also to revamp up the body energies mancanese che serve mitocondri per tirare su l'energia del corpo something that is here in germany is called cancer fatigue c'è in germania qui lo chiamiamo proprio la sindrome d'affaticamento da tumorale da cancro which some patients even five or ten years after therapy still 30% of them suffer from that so it's a mixture of extremes now due to the ongoing of very strong procedures quindi diciamo che qui ci troviamo di fronte agli esiti di procedure strong che ha subito questa bimba so it would be sensible to refill the reserves quindi sarebbe sensato ovviamente in questo caso è necessario rimpinguare le sue riserve con una preparazione di multiminerali e magari potremmo dare anche potassio extra sulla base dei livelli di potassio nel sangue per ristabilire un potenziale di membrana adeguato perché se manca il potassio nella parte interna della cellula è un bel problema e anche aminoacidi facilmente assimilabili è un'ottima supplementazione per darle e per supportare i sistemi di detossificazione dobbiamo accertarci di dare anche del selenio extra e poi dobbiamo fare in modo di ridurre tutto questo in combinazione con la riduzione del carico di parassiti e ci sono diversi approcci che noi possiamo abbracciare in questa situazione anche se ci sono degli antiparassitari diretti però per esempio anche il selenio dell'ossigeno danno proprio un aiuto a far ripartire l'attività antiparassitaria e poi potete vedere quali sono gli elementi che agiscono nello specifico contro i funghi e contro le spore For example, you can use ozonide castor oil Castor oil Castor oil, which is ozonized, to put ozone in it Si, quindi olio di castor ozonizzato, castor oil ozonizzato o ricinus olio di ricinus olio Si, all'olio di ricinus olio Then you can use simpler forms as not so aggressive, for example grapefruit seed oil Grapefruit seed extract Ma potete anche utilizzare delle robe che non sono così tanto strong, come per esempio gli estratto di semi d'uva You can use, from the dark field microscopy, you can use the penicillium roquefortii Penicillium roquefortii dalla microscopia in campo oscuro, questa è una cosa che potete utilizzare Then typically given in a d4, called fotakel, that's a preparation Il fotakel, si, sanuchel Yeah, you're exactly in a d4 Fortakel, si, si, a d4 You can, there's a whole few others, just depends to work supportive, but maybe not too aggressive, but to help to reduce that load So, and this picture all together will be a help in her situation It will not be a full therapy, of course Questo ovviamente è un aiuto per lei, quello che abbiamo detto non è una terapia completa But it would be a first step for her to feel better Però sicuramente è un suo, è un primo step per farla, per aiutarla a sentirsi meglio And when those first steps have been taken and the situation improved somewhat, then it's possible to look at more steps E quindi fatto questo primo passo, quando la situazione migliora e si sente meglio, si può guardare anche quali sono i passi successivi da fare Thank you very much Thank you very much Grazie, grazie Marcus, grazie di cuore Insomma, abbiamo anche questa sera fatto qualcosa di meraviglioso insieme We've done something really marvelous also tonight E soprattutto grazie a te, Deborah, che hai permesso di... Scusate, sono al buio, ma sto allattando Che ti hai donato questa gioia della traduzione E con questa voce verde ci fai addormentare anche noi È meravigliosa Vada, ce l'abbiamo fatta La voce della mamma che fa dormire i bambini Translation, translation and the child and that all in the dark That's quite a performance Ok, allora, va bene Grazie Deborah, ti lasciamo che insomma... Ok, sì, sì, sì Ringraziandoti di cuore di tutto E noi siamo disponibili, se qualcuno vuole fare una domanda A qualche... vuole dire la sua anche su questa serata Se gli è piaciuta Se siete contenti Di quello che stiamo facendo assieme È un impegno, vi assicuro, molto importante Stiamo facendo l'impossibile per portare questo straordinario test a tutti Perché penso che sia un mezzo straordinario per aiutare le persone a vivere meglio E ancora oggi, dopo insomma tanto tempo Non c'è attualmente un mezzo paragonabile alla potenza di S-Drive Alla velocità di S-Drive E a quello che S-Drive può fare per la clinica Voglio ricordarvi che faremo un evento importante a Milano Il 18 e 19 marzo E il 18 in particolare, Marcus, sarà con noi In presenza, finalmente ci incontriamo, ci vediamo Questo è un evento meraviglioso Dove insomma ci saranno condivisa l'esperienza con S-Drive Si parla di mitocondri, di longevità, di telomeri, di aspettativa di vita E avremo insomma grandi relatori, grandi ospiti E quindi vi aspettiamo tutti Iscrivetevi perché i posti sono limitati E che dire, se avete domande sono a vostra disposizione Se volete dire qualcosa, aprite il microfono E così ci salutiamo E ci diamo la buonanotte Ringraziando il grande Marcus Per questo grande supporto che ci sta dando Well, from my side, thank you all so much Thank you Bartolo for a super presentation I thought that was very interesting And Giorgio, thank you so much And of course Debbie, I already said that Grazie, ringrazio a tutti Ho fatto un errore di traduzione Grapefruit Pompelmo Non uva Scusate I'm sorry I didn't translate well grapefruit I translate grapes Fine Ok, fine Grazie a tutti Buonanotte Buonanotte Buonanotte